E oggi parliamo di quanto la moda, che tocca tutti noi direttamente tutti i giorni, è circolare. Ne parliamo con Francesca Romana Rinaldi. Buongiorno Francesca. Buongiorno e grazie mille per l'invito. Grazie a lei, perché come direttrice del Monitor for Circular Fashion della SDA Bocconi avete recentemente pubblicato la terza edizione... Esatto, esatto. ...di un rapporto che vogliamo un po' indagare per capire a che punto siamo, a meglio, la moda, l'industria della moda, a che punto è con la digestione delle tematiche circolari. Grazie Maria Cristina per la domanda. La circolarità nel settore moda, direi, che è appena uscita dalla fase embrionale e sta entrando in quella di sviluppo. Direi che questa accelerazione è guidata soprattutto dalla spinta legislativa e nel Monitor for Circular Fashion della SDA Bocconi, che è appena menzionato, abbiamo cercato proprio prima di tutto di identificare le attività di circolarità nel settore moda, appunto, e poi trovare gli indicatori per misurarle. Questo, credevamo, fosse proprio il punto di partenza. Sono diversi, direi, gli elementi da considerare per valutare la circolarità nel settore moda. Partirei forse da due elementi chiave trasversali a tutte le attività della catena del valore, che sono l'implementazione dei principi di eco design e la gestione dei rifiuti, che rinominerei come risorse in questa conversazione, se per lei va bene. Direi che è fondamentale, perché altrimenti non sarebbe un'economia. Esatto. Partiamo dal primo punto, l'implementazione dei principi di eco design. L'eco design dovrebbe essere, credo, nella lista delle priorità per le aziende del settore. considerate che tra qualche mese il Parlamento europeo voterà una proposta di direttiva sull'eco design presentata, appunto, dalla Commissione europea. Nel 2024 la direttiva dovrebbe entrare in vigore. Quindi questo significa che l'eco design dovrebbe essere la priorità per le aziende. Tra i principi di eco design abbiamo, ad esempio, la riciclabilità, l'utilizzo di fibre e materiali riciclati, la durabilità, ma ce ne sono anche altri di criteri, tra cui anche la riduzione delle microplastiche. Quindi sicuramente ce ne sono n da considerare. Ecco, a proposito di microplastiche, abbiamo appena pubblicato un articolo dove si dice stop all'iter. Esatto. Questo è perfettamente in linea con, diciamo, un po' questo iter, la direttiva che, appunto, dovrebbe arrivare nel 2024. Quindi sicuramente siamo in linea, direi forse anche un po', in alcuni casi, il ritardo. Certo, dipende anche dai paesi. In effetti sono ancora poche le aziende in Italia, anche a livello internazionale, che implementano i principi di eco design sull'intera collezione. Credo che il più diffuso, da quello che abbiamo visto nel monitor, è così, ma credo anche a livello internazionale, l'utilizzo di fibre e materiali riciclati. Direi che le 26 aziende del monitor first year career fashion hanno e continueranno anche a mettere al centro il lavoro sull'eco design per condividere poi ogni anno anche i risultati con l'intero settore, quindi per accelerare il cambiamento. E un'ultima riflessione anche sulla gestione dei rifiuti risorsa, e anche in questo caso le sfide sono tante, in effetti. Possiamo anche considerare un dato unico, ce ne sono tanti, ma uno credo che sia anche molto significativo. Solo il 38% dei rifiuti, appunto risorse, nel tessile è raccolto separatamente per il riuso, riciclo e smaltimento. il 62% non viene ancora utilizzato, quindi c'è tanto da fare. C'è tanto da fare, c'è da dire che il fatto che in prospettiva ci saranno i consorsi che si stanno organizzando per, ma questo fatto che è tutto molto rallentatore non agevola il recupero. Siamo in stand by, siamo stand by in Italia sul decreto. E quindi se io dovessi parlare di difficoltà ad affrontare il tema della circolarità nel mondo dell'industria e della moda, cosa ci mettiamo dentro? Il fatto che l'eco-design è sì percepito come fondamentale, ma non ancora attuato fino in fondo, e poi il problema del waste? Sì, è come se le aziende stessero un po' aspettando la normativa perché si chiarisca quali sono le regole del gioco. Quindi sicuramente questa è una difficoltà. Ci sono anche delle aziende, possiamo definirle frontrunners, che comunque non si preoccupano, diciamo, di aspettare la normativa e continuano, e anzi sono attivissime a fare ricerca su questo. Sicuramente però anche i costi, circolarità, ricordiamoci che richiede anche un ripensamento dei processi, quindi è costosa. Allo stesso tempo può portare però un utilizzo efficiente delle risorse, quindi è un investimento nel presente. Che alla lunga ripagherà. Che alla lunga ripaga, certo. E poi accesso alle infrastrutture, insomma abbiamo diverse difficoltà da affrontare, però anche tantissime opportunità. Ecco, però le aziende sono consce che c'è un salto da fare. Lo sono anche, secondo lei Francesca, i cittadini, nel senso che ho iniziato dicendo che la moda ci tocca tutti i giorni, però i cittadini cosa sanno di questa grande rivoluzione industriale nel settore della moda? Credo che i cittadini si stiano rendendo conto che qualcosa sta cambiando e direi che l'evoluzione è evidente perché quasi tutte le aziende si sono attivate sulla circolarità, sulla sostenibilità nel settore. Quando però le aziende sono troppo rumorose nel comunicare la circolarità in assenza di una strategia di circolarità ben costruita, ben strutturata, e con lì vediamo che c'è la delusione e la perdita di fiducia. Abbiamo voluto indagare questo aspetto nel Monitor for Circular Fashion di quest'anno e abbiamo appunto presentato anche i risultati di un sondaggio al consumatore che ha coinvolto circa 2.400 intervistati, prevalentemente delle nuove generazioni. Tra i dati più interessanti ci sono il greenwashing e il fatto che ci sia una particolare attenzione, soprattutto dei millennials al greenwashing, e l'attenzione anche al digital product passport, quindi a tecnologie che possano raccogliere dati di tracciabilità e per la trasparenza di filiera. Quindi ci sono comunque benefici che le nuove generazioni si aspettano. E che noi dobbiamo portare. Voi lavorate direttamente non solo con le 26 aziende del panel, giusto, ma anche con tutto. Quali sono, secondo lei, il call to action che bisogna fare, che bisognerà fare nel 2024? Alcune cose le ha già accennate, però cosa è? Può essere disratti. La priorità che abbiamo raccontato anche nel report di quest'anno è sicuramente eco-design, ma mettere anche il waste tra le priorità, pur non avendo ancora il decreto. Scusate. Sicuramente questo è un aspetto, ma tra gli aspetti principali, a prescindere poi dalle normative in arrivo, direi iniziare a lavorare, se ancora non è stato fatto questo percorso, con un approccio multi-stakeholder. Fondamentale lavorare nell'approccio multi-stakeholder alla partnership di filiera. Ed è questo quello che facciamo nel Monitor, dialogando con tanti stakeholder, a partire dalle istituzioni, Commissione Europea, Nazioni Unite, per arrivare anche alle SMEs, alle start-up, nello specifico, di moda sostenibile e circolare che vogliamo continuare a supportare nei prossimi anni. E che per fortuna il nostro paese è ricco. Grazie. Ci tengo a aggiungere un mio personalissimo parere che è moda circolare vuol dire anche tanta creatività. E il settore del fashion è creatività per eccellenza. Assolutamente. Eco-design significa design per la circolarità. Il design è il centro. Grazie, Francesca Romana e Rinaldi. A presto. Grazie a voi. Grazie mille.